Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video, oggi ragazzi siamo tornati con il post partita di Milan-Juventus Una partita che ci ha regalato i tre punti, che ci ha regalato una grande gioia ed emozione alla fine Perché siamo tornati, siamo tornati a vincere contro una grande big, contro il Milan dopo 5 partite dove non riuscivamo a vincerla Contro i milenisti, contro i rossoneri, siamo riusciti a riportarci a casa i tre punti Dopo l'andata del campionato dove c'era ancora Pirlo, quindi ben tre stagioni fa E quindi è passato del tempo rispetto a quella partita dove c'era ancora Ronaldo, dove c'era ancora Di Bale Ma i tre punti ce li si è riportati a casa E quindi buon segnale perché sicuramente non abbiamo fatto sotto il punto di vista di qualitativo una partita eccezionale Però abbiamo fatto una partita studiata alla perfezione e sotto il punto di vista di occasioni create e di efficacia perfetta Partita veramente preparata alla perfezione da Mesimeno Allegri che dopo andremo anche a vedere tramite le pagelle e voto Vi dico subito che oggi le pagelle saranno in modo diverso perché non saranno strutturate come al solito con le grafiche Giocatore per giocatore che vi farò vedere la grafica con i voti ma a causa di poco tempo questa settimana Dato che la settimana per me è molto impegnativa e quindi c'era poco tempo Saranno creati tutti insieme la squadra e sarà messa tutti insieme la squadra Nell'app dove faccio di sotto le formazioni e vi darò i voti tramite lì e quindi così a voce senza scriverli nelle grafiche Quindi una cosa più veloce per metodi di creazione di editor video Comunque andiamo subito ad analizzare per prima cosa la prestazione generale della squadra Lo facciamo tramite chiaramente oltre che il risultato che sappiamo bene tutti 1-0 con gol di Locatelli Le statistiche sotto il punto di vista di tiri in porte, di possesso palla e di occasioni create Quindi prima di tutto andiamo ad analizzare la partita sotto questo punto di vista in generale Poi andiamo a fare le pagelle 1-1 Quindi andando a vedere un po' le statistiche La Juventus vince 1-0 con il gol di Locatelli al minuto 63 E la storia, il calcio, l'universo, quello che ci regala le storie di calcio dell'universo Che il destino vuole che Locatelli al minuto 63 Esattamente 7 anni dopo del 2016, del 22 ottobre 2016 Col gol dell'1-0 per il Milan che finì 1-0 Grazie al gol di Locatelli alla Juventus che ancora c'era Buffoni in porte nel 2016 E regalò la vittoria al Milan che poi quell'anno andò anche a conquistarsi la Coppa Italia a Doha E quindi dopo esattamente 7 anni, proprio due minuti prima Minuto 63 invece che il 65 Sarebbe stato veramente clamoroso se fosse stato anche il minuto preciso Segna dalla parte opposta Contro il Milan con la Juventus Quindi questo è un ricorso storico che avete già sentito ieri sera Tramite gli aneddoti che hanno raccontato in Telecronica e col post partite Quindi sicuramente è un grandissimo dato storico da scriversi e da ricordarsi Andando a vedere un po' le statistiche, la Juventus 14 stili totali contro 7 del Milan Il doppio e ti riporta 4 contro 1 del Milan Quindi Milan che non ha creato quasi niente, poco niente Perché il possesso palla 52-41 del Milan E' certo che bisogna dividere la partita Nel primi 30 minuti dove il Milan ha preso in mano la partita E ha fatto lei la partita con il possesso palla che era 65.000 e 35 Juve Quindi è chiaro che all'inizio della partita era Aspettiamo il Milan e ripartiamo in contropiede Perché io avevo detto Io andrei a pressare gli altri, cerca di far noi la partita Piuttosto che essere a loro il pallino del gioco Però avevo detto che quasi sicuramente Allegra avrebbe fatto far loro in mano il pallino del gioco Anche se comunque il Milan è una cosa che fa di solito E quindi la sa far bene, tenere il pallone col possesso palla E andare a imbucare appena la difesa sbaglia Ma la Juventus è stata perfetta nel difende i primi 30 minuti C'è stato solo uno sbaglio Che poi non è stato uno sbaglio C'è stata un'occasione per il Milan nata da Leao Il giocatore più pericoloso del Milan Il giocatore che crea le occasioni Senza di lui veramente il Milan non sarebbe stato nemmeno mai pericoloso Leao che fa una cabalcata clamorosa Se ne va in fondo alla passia, fa un grandissimo numero La passa al centro Giroud che Rugani si era un po' lasciato andare Anche Giroud un gran tocco e poi Sesini ci salva la partita E andremo anche a vedere nelle pagelle Perché senza di Sesini magari la partita sarebbe cambiata Uno al 0.000 cambia tutto Quindi Sesini decisivo Quindi molto bene quella parata Veramente che ci tiene in vita dopo i primi 10-15 minuti E quindi sicuramente quello è stato l'unico casino del Milan Che poi è vero che quello che ha influito è stato il rosso Al quarantesimo, dove i primi 40 minuti Ripeto, 65 passato a Milan, 35 Juventus Tiri erano più o meno 7 tiri E la Juventus ne aveva fatti 3-4 Comunque è riuscito a creare occasioni Ma la Juventus il primo tempo aveva in mente di Aspettare Milan, difendersi bene E provare a fare i contropiedi Che sono stati fatti perché Che hanno avuto varie occasioni nel primo tempo E chiaramente poi il secondo tempo Sapevano che sarebbe stato l'ingresso di Chiesa L'ingresso di Vlaovic L'ingresso di giocatori freschi Che avevano potuto cambiare la partita Col Milan che magari era torturato Dalla Juventus che non riusciva a creare occasioni E poi colpirla La cosa è stata facilitata dal rosso Perché oltre poi a colpirla in contropiede Nel secondo tempo siamo andati Già dal quarantesimo al cinquesimo Prende noi mano la partita E parla noi la partita E quindi sicuramente abbiamo anche sfruttato Il rosso Che comunque se quel rosso non ci fosse stato Comunque se Ciao non buttava per terra Ken Ken si involava davanti alla porta da solo E il 70% faceva gol E quindi riuscivamo a segnare anche senza Il bisogno del rosso Perché sicuramente Nelle prime 40 minuti La Juve sfruttava bene in contropiede Come si era visto in quella azione Perché da dove è nato il rosso? Non dal nulla Non dal niente cosmico Ma è nato chiaramente ad un'occasione Dove la Juve ha lanciato Ken in profondità in contropiede Dato che il Milan Giocava alta Di difesa La Juve ha provato a fare Palla lunga Che in questo caso La palla lunga è contata Con un gran Ken In gran forma Quindi sicuramente Partita preparata alla perfezione Quindi abbiamo fatto la partita Che doveva fare Non bella da vedere Più in 40 minuti Da parte della Juve Perché sicuramente La palla Il palino di gioco Era in mano al Milan Ma questa è una chiave Anche delle Juventus vincenti Quando c'era ancora Ronaldo Di Bala Chiesa Quegli anni lì Dove ancora Massimilio la Lega nel 2018 L'anno anche dove c'era Ronaldo Cancelo Tutti i grandi campioni Quello è il meglio gioco Della Juve All'essere per lì non gli altri Chiaramente gli altri Quando c'era una big Perché quando c'erano squadre piccole Chiaramente noi E poi ripartire Con i grandi campioni Qui i grandi campioni Non ce ne sono Però sicuramente Il metodo di gioco Era giusto In i primi 40 minuti Infatti il rosso Abbiamo creato in un'occasione Che ha fatto male al Milan E poi sicuramente Dopo il rosso Chiaramente la partita È facilitata La Juventus Ha fatto lei la partita Con il Milan Che doveva provare A ripartire in contropiedi Ma più che ripartire in contropiedi Si doveva salvare Fino al gol di Locatelli Poi dal 65 settembre In poi Il Milan provava frazioni Perché non aveva nulla da perdere La Juve sfruttava i contropiedi E poi sicuramente Nel sfruttare i contropiedi Non si sono stati perfetti Perché anche Massimilio la Lega Nella fine Con veramente Una sfuriata incredibile Veramente Di rabbia Di grinta Veramente Come avete visto Nelle prime immagini Che abbiamo fatto vedere In questo video Veramente con una Rabbia assurda Si toglie la giacca La lancia via Di grinta Di forza Di orgoglio Di appartenenza Ai colori bianconeri Lancia via la giacca Si strappa la cravata Dopo 5 secondi Poi sbraita Urla 5-6 volte Poi dopo Al 92esimo Quando manca un minuto Due minuti A fine della partita Si gira Parte Fugge Fa una volata Verso le scale Poi va giù A velocità della luce Per tornare Nell'isponatoio Quindi queste Sicuramente ci riportano All'Allegri Di una volta Quando si era tolto la giacca Nella partita Contro i Cagliari Sicuramente Anzi contro i Carpi Era mi sembra Non contro i Cagliari Contro i Carpi Mi sembra fosse Quella partita di Allegri Dove si era tolto la giacca Infuriato Alli ultimi minuti Perché l'Iventus Aveva rischiato Di perdere Quella partita Di farsi pareggiare Almeno quella partita Quindi sicuramente Quella partita Dove l'Iventus Ha vinto 3-2 In casa del Carpi E l'ultimo secondo Allegri Che si infure Lancia via la giacca Proprio come ieri E ieri poi Tra l'altro Veramente Ha fatto vedere tutto Come ci tiene l'Iventus Veramente La partita È stata creata La perfezione Questa partita Quindi Veramente bello Anche vedere La sua rabbia alla fine Che fa ridere Però sicuramente Lui era molto agitato Perché sapeva Che comunque Quei contropiedi Lo aveva sfruttati bene Quindi sicuramente Lì doveva migliorare Perché da settantesimo in poi Potevamo fare assolutamente Altri due gol almeno Non abbiamo fatto neanche uno Sicuramente anche Vlaucio Sbriato tanti palloni Quando è entrato Però non si è stati bravi Nei contropiedi Per questo è nata lì La rabbia del Allegri giusta Quindi sicuramente Quello potevamo farlo meglio Però comunque Fin lì Abbiamo fatto tutta la perfezione Comunque Il gol di Locatelli E' nato Perché la Juventus Stava continuando a bombardare Il Milan Sicuramente Eram pronti anche le carte Chiesa Vlaucio Chiesa poi è stato ritardato Perché Locatelli Si è inventato Questa giocata Da fuori Sicuramente fortunato Anche per il rimpallo Però Locatelli segna La Juventus Va in vantaggio 1-0 E poi da lì La Juventus Gestisse la partita Sfruttando i contropiedi Però non sfruttandoli bene Segnando Però comunque Creando occasioni al Milan E quindi Per questo che poi C'è 14 tiri totali A 7 Dopo il cartilino rosso I dati In realtà i dati Fino a quarantesimo Erano a favore del Milan Con la Juve però Che era più cinica E precisa E quindi sicuramente Abbiamo fatto quello Che era programmato Quello che aveva in testa Messimelo Allegri Io avevo in testa Un altro metodo di partita Ma lui l'ha fatta Perfessione Alla fine ha avuto ragione Quindi grande Max E soprattutto Grandi la Juventus Perché abbiamo avuto La grande grinta E orgoglio Di una squadra Che vuole tornare A grandi livelli Allegri continua a dire Che la Juventus Punta le prime Quattro posizioni Ma lo sa anche lui Che se continuano Su questo ritmo E continuano questa costanza L' Juventus Quest'anno un po' benissimo Giocarsi a più scudetto Anche guardando un po' L'avversario Che tante volte Inciampano Inciampano su qualche ostacolo Per cammino Quindi veramente Noi ci siamo E siamo pronti Per giocarcela Anche quest'anno Perché dopo tre anni Dovamo vinto Milena In Inter Napoli E ora di ritornare A dominare l'Italia Signori Quindi sicuramente Grandi segnali Tutta partita Poi la prossima domenica Sicuramente non possiamo Permetterci Di perdere Assolutamente punti Perché giochiamo col Verona Giochiamo in casa Sabato sera Poi abbiamo Fionettina-Cagliari Prima della sosta Ancora sosta Nazionali Quindi sicuramente Da qui Alla partita col Cagliari Dobbiamo fare Nove punti su nove Chiaro che in casa Della Fiorentina È la partita più difficile Ma Verona-Cagliari Sono sotto i miei da vincere Poi provando anche A portarci a casa La vittoria con Fionettina Ma ora pensiamo Partita per partita Quindi la prossima Juve-Verona Sabato 28 ottobre Alle ore 8.75 E quindi invece Andando alle pagelle Della Juventus Partendo da Sesli È stato veramente Ripeto Decisivo Per questa partita 7 perché Fa un miracolo su Giroud Salva un pallone Che poteva Portarci subito in svantaggio Con una giocata Di Leao Pallone al centro per Giroud Sesli no Ci mette la mano E ci tiene in vita E ci fa rinassere Quindi decisiva Quella parata E quindi Sesli 7 Grandissimo portiere Rugani Rugani 7 anche lui Perché non fa creare niente Alle attaccanti del Milan Rugani aveva il compito Di tenere Pulisic Che non ha assolutamente Fatto niente È uscito dopo 40 minuti Ma Filino non ha toccato il pallone Quindi Rugani Veramente un difensore Che adesso può anche giocare Il titolare ragazzi In questa Juve Perché pensate voi Quanto eravamo forti prima Rugani Era considerato Un giocatore Scarso Quasi ridicolizzato Dai tifosi gioventini Fino a 2-3 anni fa Quando ancora Eravamo abituati A aver difeso Chiellini Barzalli Vorrucci Ma era ridicolizzato Perché in campo C'erano dei fenomeni Fuori dalle stelle Fuori Ultraterreni Chiellini Barzalli Vorrucci Un po' di meno Di Chiellini Barzalli Però comunque Anche lui Nel suo migliore Tempo era forte E quindi per questo Che Rugani Era ridicolizzato Adesso in una difesa Normale Con Bremer Gatti Danilo Rugani È come loro Quasi Se non uguale A loro Se la gioca Assolutamente Con loro Quindi Rugani Un gran difensore Che è sempre stato Un panchinaio Ma che adesso Merita anche Il suo spazio Quindi 7 Se lo merita tutto Bremer 7 anche lui Perché finalmente È Bremer Finalmente la sua condizione Si sta ritrovando Come anche quella di Rabiot Che dopo andremo a vederla Quindi per il momento Noi siamo tutti in forma adesso È il momento di fare lo sprint Di aumentare il ritmo E accelerare Perché Bremer Veramente doveva tenere il girù Se l'è perso Solo una volta che in realtà Poi lì Lo stava marcando Rugani E quindi sicuramente Rugani lì Se l'era un po' Perso girù Però comunque ripeto Rugani ha fatto una gran partita Mentre Bremer lì Sicuramente Ha sempre tenuto bene Girù Non gli ha permesso niente E quindi sicuramente Ha fatto una gran partita Gatti 7 e mezzo Mezzo punto più degli altri Perché doveva tenere le au Che non era assolutamente Facile tenere le au Anche lui Se le ha fatto scappare una volta Che Comunque non è facile Mai far scappare le au Per questo che gli ho dato l'otto Sarebbe stato otto Se non fosse mai fatto scappare Ma comunque l'ha gestito bene Perché alla fine le au Non ha fatto nel continuo posto Quindi 7 e mezzo per Gattone Che ancora una volta Si dimostra un grandissimo difensore Kostic Kostic 6 Niente di che Perché Kostic comunque Quest'anno Ancora Non sta facendo Quello che faceva l'anno scorso Anche perché il gioco Delle Juventus È un po' cambiato L'anno scorso dipendeva Tutto da Kostic Palla per lui E cross sempre al 100 Quest'anno non dipende tutto da lui Lui è un'arma in più Comunque tanti crossi l'ha fatti Però Non è preciso ancora come l'anno scorso Lui ancora non lo sta trovando In mia condizione Per quello che io secondo me Punterei più sull'asse Cambiaso Chiesa Che Kostic Quindi 6 Wea 6 Perché Mollegge sul pallone Veramente Sembra da un momento all'altro Che possa fare lo scatto Alla Leao Alla Moppe Perché Leao e Moppe Sono due giocatori molto simili Sullo scatto Sull'eccelerazione Wea Anche lui con l'impressione Però È meno possente E Ha ancora tantissimo Ma tantissimo da lavorare Sulla tecnica Sicuramente Quindi 6 È il voto Di questa partita Meccanici è in mezzo Perché comunque Non fa niente di eccezionale Però ancora tante volte Lotta Fa la guerra Vince i contrasti Crea buone occasioni Buoni inserimenti Meccanici è veramente Un valore aggiunto Quest'anno Uno dei migliori Che deve essere sempre in campo Ed è sempre in campo Ho messo sempre Il titolo da Allegri Perché Ovviamente Meccanici Sta facendo molto bene Quest'anno Locatelli Locatelli come Non dargli 8 8 perché Fa il gol Fa il gol Proprio contro il Milan Scoppia In lacrime A fine partita E si dimostra Un giocatore Veramente attaccato Alla Mali A Juventina È un nuovo Bandiera futura Della Juventus Perché Ancora 6-7 anni Al massimo Della carriera E da adesso in poi Può diventare Un punto fermo Della Juve Chissà Può diventare Anche un campione Da parte Della Juventus E può finalmente Essere punto fermo Della squadra Da quest'anno Quindi Grande Locatelli Io lo speravo Questa cosa Perché vedevo Locatelli Molto parte Della squadra Molto Veramente Attaccato A colori E a me piacciono Sempre quelli che sono Attaccati I colori bianconeri Orgogliosi Di giocare Della Juventus Però sicuramente Non aveva ancora Quella tecnica E quella qualità Che ci aspettavamo Avesse Quando l'avevano comprato Quindi sicuramente Adesso ne ha Mentre Rabiot 7 7 anche Rabiot Perché Una partita dove Si è visto che Rabiot Aveva un'altra gamma Rispetto alle prime Di campionato Ce n'è voluto un po' Precarburare Un mese e mezzo Però ora c'è C'è anche lui È tornato Ed è tornato Con fasi di capitano Anche lui Per dare un contributo Alla Juventus E quindi sicuramente I miei pensieri Che potesse anche Aver fatto L'anno scorso bene Perché doveva Doveva rinnovare Quest'anno invece Non si sarebbe impegnato Per futuro Erano infondate Queste miei pensieri Quindi Rabiot è tornato Il cavallo pasto E quindi bene così Per altri Benissimo Mentre andando invece Nel passi Offensiva Moise Ken Moise Ken 7 Perché è vero Che ci mangia un gol Solo 0-0 E quindi sicuramente Perde sicuramente Almeno un voto Su quello Ma crea occasioni Decisive E se il rosso Di ciao È avvenuto È grazie a Moise Ken Che fa un movimento D'atleta Da centometrista In avanti E cerca di creare La profondità E quindi Ken 7 Milik 5 e mezzo Uno di pochi sufficienti Perché Milik Non crea occasioni Perde tante volte Pallo sull'appoggio Allegri tante volte Ha parlato con Milik Dicendo di Far bene gli appoggi Che è la sua qualità Di proteggere il pallone Appoggiare il pallone Al centocampista Per andare a fare Il taglio esterno Dell'ala Sicuramente Non ha fatto una bella partita Milik Tra gli attaccanti Quello meno in forma E forse anche quello Con meno qualità Rispetto a Ken Blavich Chiesa e anche forse di Il dista meno qualità Sicuramente anche Sillis è ancora giovane Quindi Milik Diciamo un po' Il quarto Quinto attaccante Alla squadra L'ultimo attaccante Alla squadra Proprio quando ce n'è bisogno Però Anche lui Quando ce n'è Ce n'è bisogno Ieri non ha fatto Proprio una bella partita 5 e mezzo Ma non disastroso Diciamo Mentre i cambi Cambi Intanto Cambiaso Intanto benissimo Cambiaso Ci sono delle partite Dove fa bene E delle partite no Quindi deve trovare Continuità Ed è veramente Un grandissimo giocatore Alacanselo Può diventare Ripeto Non azzardo Alacanselo 7 7 Cambiaso Perché bene 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 Vlavic Vlavic invece è entrato malissimo È entrato malissimo Perché si mangia un gol Davanti Mirante Sbaglia tantissimi appoggi Quindi 4 È il suo voto Ci sta Perché comunque Era da tanto che non giocava Non era in forma Entra alla fine Di una partita Dove siamo già su 1-0 Quindi il gol Non è che serva Più di tanto Però sicuramente Vlavic non è entrato bene Speriamo si riprende Torna a avere la condizione Di prima Perché veramente Prima che si facesse male Vlavic era tornato Speriamo veramente Torni ancora Perché ci serve Una punta come Vlavic Chiesa 6-5 Perché nonostante Chiesa Anche lui fosse stato fermo Non può Entra e cerca subito Di fare delle occasioni E delle fiammate Chiaramente non ha la gamba Ancora di prima Perché devo un attimo Riprendere la condizione Ma io credo che già Nella prossima parte col Verona Chiesa ci può portare A casa un gol Quindi grandissimo fede Miretti 6 Sbaglia alcune cose Soprattutto sul pallone Dato di Palla di Chiesa Per Miretti Miretti che si fa Cadere Che poi era fallo Perdi pallone Alla fine fallo Allegri però comunque Non si sa perché Si arrabbia Si toglie la giacca E la lancia via Proprio in quell'occasione Quindi Miretti 6 Non ha toccato troppi palloni Quindi quasi un senza voto Ma 6 Uizen 7-5 Perché 7-5 7-5 perché Entra E fa veramente qualcosa Subito come Ha rimarcato Allegri Ha detto avrà un gran futuro E allora Vedete che non ci avevo visto male io Che Uizen Ha anticipato Leao La prima cosa che ha fatto In esordio In Serie A A 18 anni 2005 Entra Anticipa Leao Colpetto Si porta il pallone davanti E chiude Un'occasione Di pericolo Poi niente di sbagliato Non ho sbagliato un passaggio Ripeto Questo qui può essere Il nuovo Barzali Questo giovane Questo Uizen può essere Veramente il nuovo Barzali Tanti dicono il nuovo Delict Io no Io dico addirittura Il nuovo Barzali Perché può diventare Veramente uno dei defessori Forti al mondo Quindi bene bene Uizen Massimiliano Allegri 9 9 Perché Veramente fa Qualcosa di Veramente bellissimo Anche nell'arrabbiarsi Alla fine Già sarebbe 8 Poi un voto in più Anche per quello che ha fatto Alla fine Non solo perché ha dato Spettacoli Non so anche da rimarcare Rivedere il giorno dopo Magari ridendoci sopra Ma anche perché Dimostra di avere Orgoglio Ripeto come prima Fedeltà alla Mali Benconera Che già sapevamo Ma rimarca sempre di più Quanto ci tenga questa squadra Perché non c'è nessun allenatore Che fa queste geste Quando la squadra Non si sta impegnando Mentre lui invece Le fa Magari anche per spettacolo Magari anche per dare un po' Di enfasi al pubblico Ma sicuramente Perché veramente Lui ci tiene a questa squadra E in più la partita È stata Organizzata veramente Benissimo Non gli do 10 Solo per un motivo Solo perché comunque Quell'occasione lì Se Giroud Riusciva a far gol Prendeva un gol E comunque Se Cesani non ci faceva Quel miracolo Avremmo preso 1-0 E poi la partita Poteva andare in un altro modo Però abbiamo vinto Quindi ha ragione Max Quindi 9 È il suo voto Quindi questa ragazzi Era L'analisi Della partita Tra Milan Juventus Una partita Che ci ha regalato Questi tre punti Che ora Ci proiettano In una nuova chiave In questa classifica Di Serie A Perché ora siamo Terzi in classifica A un punto dal Milan Secondo A un punto dall'Inter Primo A due punti dall'Inter Primo Inter 22 2021 Juventus 20 Sta arrivando dietro La Fiorentina E Napoli Però sicuramente Lo scontro diretto Tra due giornate Con la Fiorentina È importante Per buttarla indietro Anche dipendendo Dall'esultato di stasera Che la Fiorentina Gioca stasera Una partita Che potrebbe farla Agganciare la Juventus Quindi sicuramente Fiorentina che gioca Contro l'Empoli In casa E quindi Dovrebbe vincere Quindi agganciare la Juve Al terzo posto Però sicuramente La Juventus Tra due giornate Ha lo scontro diretto Con la Fiorentina E Napoli Sicuramente La prossima giornata Deve giocare Una partita Importante Contro il Milan Dove si spera Pareggino Si deve vincere Proprio uno dei due Il Napoli Perché è dietro Quindi mi guardo Sempre chi ho davanti Però sicuramente Un pareggio sarebbe Il miglior chiave Quindi ragazzi Questa è l'analisi Di una partita Che ci ha regalato Una grandissima Vittoria E ci vediamo Nel prossimo video Dove Questa settimana Ripeto Anche in questo video Non ho fatto le pagelle Fatte bene Perché è una settimana Preparerò Is the best of Dell'anno Dei migliori ciclisti Come avevo già detto Pogaccia Van der Poel La Philippe Van Aert Wingard Roglic Gan Tutti i migliori Di questa stagione 9-10 video E poi sicuramente Durante tutto l'inverno Questi video usciranno fuori Questi saranno Una decina 10-11 video Dei migliori ciclisti Di questa stagione E quindi usciranno A partire da adesso Da in inizio di novembre Non abbiamo fretta Su questi video Perché diciamo Che c'è tempo Fino a fine anno Di falli Da adesso novembre Fino a gennaio Quindi c'è ancora più di due mesi Quindi non c'è fretta A pubblicarli Sicuramente poi Ci rivedremo A fine della settimana Con la prepartita Di Juventus Verona Una partita da vincere Assolutamente Fino a venerdì e sabato Non credo che ci vedremo Perché ripeto Molto impeditivo Questa settimana Però sicuramente A fine settimana Siamo sicuri che ci vediamo A prepartita di Juventus Verona Quindi ragazzi Ci vediamo Col prepartita di Juventus Verona Una partita che speriamo Che ci regali Anche quella Grande emozione Quindi ciao a tutti ragazzi Sempre Forza Juventus Ciao a tutti ragazzi